Domani è l'ultima partita di questa stagione in casa e bisogna farla per bene perché comunque sempre i Ventus Milan, lo scordiamoci, loro hanno l'obiettivo comunque di entrare in Champions, la matematica al momento non ci lascia fuori da niente, però bisogna essere molto bravi, sicuramente la sconfitta di Empoli ha complicato il percorso. Innanzitutto con la società siamo in linea su tutto, poi io faccio l'allenamento non ho mai avuto il potere e neanche lo voglio avere perché comunque la società deve fare delle scelte, ma sia del direttore sportivo che del magazziniere che del segretario sono cose su cui io non ho mai messo né bocca e soprattutto non ho mai messo il veto. Io sono allenatore e dove sono stato oltretutto sono credo abbastanza aziendalista e tengo molto alla società per cui lavoro, all'azienda per cui lavoro e tutte le persone che vengono messe a disposizione dalla società per me, io ci collaboro, ci lavoro perché comunque alla fine i risultati che bisogna portare vanno portati per la Juventus e su questo direi, mi sembra una cosa abbastanza chiara e infatti grazie per la domanda perché comunque è una cosa che sicuramente il fatto che io avessi messo un veto è una cosa che non mi piaceva molto anche perché non ho nel potere e giustamente non devo farlo perché sono cose che riguardano esclusivamente la società. Non è assolutamente cambiato niente, è normale che quando mancano risultati tutti ci facciamo delle domande, ho parlato con la proprietà quattro giorni fa perché comunque l'ingegnere ha comunque si è voluto far sentire vicino come sempre per cercare di dare sostegno e per farci capire che comunque niente è perduto, abbiamo sempre la possibilità di entrare in Europa e sono state parole di sostegno che sicuramente ci potranno fare se lo che è bene. No, assolutamente. Io ho altri due anni di contratto e mi impegnerò fino alla fine per far sì che la Juventus l'anno prossimo torni a competere per il campionato però la stagione prossima la decideremo il 5 di giugno perché dovremo pianificare tutta una serie di cose perché comunque da tutte le cose negative di quest'anno che ci sono state sicuramente ne usciremo fortificati per l'anno prossimo. Grazie mille! 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 Grazie mille!